ormai davvero a secondi, ecco infatti che Lampeggia dunque va in partenza l'ottava corsa di Palermo. Ottava ed ultima corsa di Palermo, un miglio per anziani a reclamare, valida come tris quartè quintè della giornata ippica nazionale, gioco già chiuso, favorita Orsetta numero 8, quota di 2.67, i cavalli con un buon allineamento vanno sulla retta di fronte per lo stacco, stacco che avviene in questo istante, c'è l'errore di Nugo di Azzurra all'esterno, prova di ingabbarsi in AI BLV, mentre Promessa Carr è partita lungo la corda e comandata energicamente da Bernardo Grasso, prova a tenere il comando nei confronti di Pegasus che ripiega in seconda posizione, in AI BLV all'esterno seguito da Nabucco Jet numero 13 che è partito molto bene dalla seconda fila. Dunque un po' a sorpresa la rientrante Promessa Carr prova a farsela in avanti, una mossa quella di Bernardo Grasso in attesa che ha messo sicuramente nei grossi guai in AI BLV che si trova costretta a viaggiare scoperta per linee esterne seguita da Nabucco Jet, poi più indietro con il numero 12 Otilia. I primi 600 metri sono andati via in 45, piuttosto scarsi, con la sorpresa Promessa Carr, 23 la quota al totalizzatore, che continua a guidare condannando alla corsia esterna AI BLV, dietro la capofila Pegasus e Olympic AS, più indietro con il numero 9 Lille Christer, mentre adesso è Otilia che prova a spostare, anticipata da Nabucco Jet. Nel frattempo Promessa Carr appare piuttosto stanca e viene scavalcata da AI BLV che raggiunge il primo chilometro attorno all'1.15, ma certo ha speso parecchio AI BLV, viene avanti Otilia, più a largo Poldo di Drago mette in campo la sua progressione che in questo momento sembra quella risolutiva, passa Poldo di Drago su AI BLV che è piuttosto stanco, adesso provano altri a rinvenire, anche Pegasus è in difficoltà, Nabucco Jet è sceso terzo in corda ma sta calando e adesso prova a venire avanti la rientrante Lille Christer. Siamo dunque alle battute conclusive, qualche difesa di carattere da parte di Poldo di Drago che è un po' sbandato ma è rimasto comunque al comando nei confronti di AI BLV, insiste anche Lille Christer all'esterno e cerca di portare a casa un imprevisto ed ottimo piazzamento, così infatti vince Poldo di Drago nei confronti di Lille Christer, ma adesso andiamo a rivedere il replay perché altre sorprese probabilmente ci aspettano. Dunque ha vinto Poldo di Drago, 9-32 Francesco Larosa Junior in Ense Diolo, il training è di Matteo Di Meo, ottima seconda la rientrante Lille Christer, davvero in attesa che respinge Olympic AS, dunque 9-3 al secondo e terzo posto mentre all'estremo outsider Lampo di Re numero 11 relega al quinto posto il numero 7 di AI BLV. Dunque davvero un arrivo in buona parte a sorpresa in questa ottava corsa di Palermo.